A Marcelli si gioca la tredicesima giornata della Gold Cup 5, tirone alle 8 tra il Jolly e il Cleos, Jolly con 22 punti in classifica al sesto posto, mentre il Cleos è a metà classifica con 18 punti. Abbiamo avanti il Jolly con Ombrosi che si accentra, al destro si allunga Lisei, si fa male Ombrosi, un infortunio pesante per il Jolly, il sinistro di Taibi e Lisei la mette a lato che la sponda è scola e ancora Taibi il diagonale che attraversa tutta la porta, qui l'anticipo di Pinciaroli, il destro di Taibi e ancora Pinciaroli sulla rispinta, nel vantaggio del Cleos, alziati un minuto, Sansevrinati se ne va di potenza, salva due uomini davanti ai piccoli che si salva con i piedi, qui il Cleos è la ministra con Taibi, il destro con i pugni Lisei, si salva, Matassoli scucchiaia per Sansevrinati, il pallonetto e Taibi salva sulla linea, veramente dubbio, all'arbitro fa giocare, ci vorrebbe la colla in tecnologi per stabilire se era rete, qui Taibi, il destro, di poco a lato ancora il Cleos, Costanzo, il destro, Lisei, la palla rimane lì e Verdini segna il 2-0 per il Cleos, siamo al diciannovesimo, qui è Matassoli, il destro, la bella parata, i piccoli, finisce così il primo tempo con il doppio vantaggio del Cleos, attacca Carancini, Sansevrinati lavora il destro e piccoli, devia, ancora Sansevrinati che scambia e segna il gol del 2-1, accorcia le distanze, il jolly qui si invola, Taibi, il sinistro, termina alto, con il jolly in avanza con trucchia al destro, piccoli e bravo a rimanere in posizione, Carancini scambia con Sansevrinati, l'esterno destro, ancora piccoli, il jolly attacca, vuole il pareggio, Carancini, il 2-2, il sesto minuto, il pareggio del jolly che continua, non si ferma, con i trucchi ancora, e piccoli con i piedi si salva, e ora Carancini lavora la palla per Truggia, che si incune, al destro, devia, ancora piccoli, veramente una grande partita del portiere del Cleos, ancora Carancini, il bel sinistro, il vantaggio del jolly, ribalta la partita, al dodicesimo, subito il tiro del Taibi, che prova a reagire, ma qui è trucchia, che non trova la porta, Carancini, si incune sulla destra, mette al centro per Severini, sotto porta, il 4-2 del jolly, che allunga, siamo al sedicesimo, qui è Berdini, supera la reazione, il gol di Taibi, all'incrocio, 4-3, non molla il Cleos, qui è trucchia, nel jolly, che si salva ancora piccoli, chi si accentra, piccerola in destro, alto, la partita ora apertissima, Giulioni per Semerini, ancora piccoli, bravissimo, qui la palla recupera da Trucchia, sulla destra, al destro, che non trova la porta, Elisei, l'errore, Berdini, segna il 4-4, clamoroso, errore del portiere, Elisei, siamo al ventunesimo, ora in pieno ricubro, ci prova a vincere, con il tacco poi, Scoli, che non trova la porta, con l'occasione per vincerla del Cleos, ma arriva il triplice fisco, l'albino de gioia, che sancisce questo 4-4.